Buongiorno a tutti, buongiorno di nuovo e benvenuti a questo intensino ma veloce convegno. L'intento di questo ritrovo si svolgeva in due piccole tranche. Ieri sera abbiamo incontrato alcuni di voi come centro tecnico nazionale, dirigenti nazionali e abbiamo fatto una chiacchierata su quali, come potrebbero essere alcuni argomenti da sviluppare nell'imminente futuro per migliorare la nostra federazione. Riteniamo però che ci debba essere una maggiore informazione capilare nel territorio per dare a tutti gli istruttori la possibilità di essere aggiornati e non solo. Ci si aggiorna in tanti modi ma io ritengo ci si aggiorni anche come abbiamo fatto stamattina, andando al mare un gruppo di amici, stare insieme e parlare. Vi assicuro che era bellissimo sentirvi in barca, divertirmi perché lo spirito della nostra federazione è proprio questo. E comunque devo dire che ho avuto l'onore stamattina di fare un'immersione con Fior Fior di Subacquei e questo per me non solo un orgoglio ma anche è stato un piacere. Poi c'era un dottore che girava in giro dappertutto, adesso vediamo di fermarlo, non ha bisogno di presentazioni e in FIAS da quando ci sono io ho avuto la fortuna e il piacere di conoscerlo nella sua terra tanti tanti anni fa, ha la passione della medicina, non ho capito come mai perché. Mi hanno detto degli amici, perché poi noi finiamo sempre per credere agli altri, no? Sarebbe anche un po' ora di finirla, che questo signore è uno dei più preparati a livello europeo sicuro e anche a livello internazionale. Allora, siccome siamo anche un po' amici, è un uomo FIAS, perché non farci fare una chiacchierata da lui sulle ultime sue ricerche, sulle ultime sue conoscenze? Non ha bisogno di presentazione, si chiama Posquale Longobardi di cognome, saluto anche la sua signora che gli fa compagnia, il quale tratterà purtroppo brevemente proprio le ultime sue ricerche sulla sicurezza dell'immersione ci saranno molto molto utili. A seguire poi faremo una brevissima sosta perché la giornata è cambiata l'ora, è veramente breve e avremo la fortuna di conoscere un altro professionista per cose che ci sono molto utili. La parola Pasquale Longobardi. Io giuro molto, però qui essere proprio in famiglia, per cui quando penso a lui, a Bruno, a Marco, a Gianni, ci siamo cresciuti insieme, per cui vado subito a dunque. C'è un bel cambiamento in medicina subacqua, mi sono un po' abituato, anche perché oramai saranno 30 anni che sto con voi, se non dico delle novità, ma annoio. Veramente quest'anno ci sono delle cose che, per caso ho trovato, dai miei scritti nel 1984, che c'erano i semi di queste robe, ma erano delle idee. Adesso queste idee sono diventate qualcosa di reale, tanto reale che nella subacqua industriale 2017, quindi quest'anno, è partito una direttiva all'azienda di lavori subacquei di fare dei corsi di formazione sul benessere dei subacquei perché hanno un danno di un milione di euro all'anno per blocco di cantiere, per problemi non legati alla subacquea, ma al fatto che i subacquei sono in scarsa forma fisica. Quindi dice non chiediamo più in maniera grossa l'incidente subacqueo, come poi vedrete adesso, dovuto a cause esterne, ma più a cause interne. E allora il diktat adesso è, come è scritto nella diapositiva, badati, stai un po' in forma che ti immergi meglio. Questo è il messaggio portare a casa. Quello che sto dicendo adesso è questo, tutta la nostra formazione didattica, qui siete tutti istruttori? C'è qualcuno che non è istruttore? No. Allora quindi con voi posso parlare così. Quando parlo con i livelli più bassi dico, mi raccomando, quello che vi dico è ricerca, dovete parlare con i vostri istruttori perché devono filtrare quello che io dico in un discorso didattico. A voi a maggior ragione dico ascoltate perché verranno da voi a chiedervi informazioni. E questa roba qui dovete saperla. Finora abbiamo sempre pianificato la decompressione pensando a un discorso di profilo di immersione, quindi scarichiamo di azoto, bisogna liberare l'azoto, bisogna fare delle altre cose per scaricare l'azoto. Questo è il mantra, il concetto che facciamo. In realtà non è più così, è più un discorso come stavo dicendo minuti fa avanti, che è qualcosa dentro di noi determina eventualmente il danno. Quindi a parità di immersione che facciamo, se succede un problema è perché dentro di noi quella persona ha qualcosa che non funziona. È come se si perdesse il collegamento tra la periferia e il centro. Vediamo il motivo. Innanzitutto tra la guerra, tra i modelli compartimentali, modelli a bolle, quindi l'RGBM o altro, c'è stato tutti gli anni, i dieci anni scorsi, quindi adesso siamo nel 2017, quindi dal 2007 2005 fino al 2016 stava vincendo il modello RGBM, quello a controllo delle bolle. Anche se nel 2003, che è l'ultima consensus conference che abbiamo fatto, cioè noi dottori ci incontriamo ogni tanto, ce le diamo a botte e poi usciamo con un minimo di compromesso. E l'ultima è stata fatta a Ginevra nel 2003, aveva detto che il miglioro erano i compartimentali. Quindi nel 2003, nel 2017 hanno preso piede i modelli a bolle, adesso nel 2017 è tornato di nuovo di moda il modello compartimentale, quindi Vecco, Aldaniano, Buhlmann, quello che volete. Tenete presente che quando parliamo di modello compartimentale, si parte da una linea che è la pressione ambiente, cioè l'azoto che abbiamo adesso nell'aria, il 21% di 760 mmHg, poi c'è un'altra linea che è la linea del quant'azoto abbiamo preso nell'immersione. E non è una linea di rischio, la linea di rischio è più in alto, è il valore M che è il massimo che possiamo raggiungere. Computer moderni, bisogna che imparate a leggerli, quindi o questo italiano o lo share water sono uguali, ve lo dicono queste cose, oggi mi sono divertito dell'immersione a guardare. Se prendete il dive, questo pulsante qui, lo cliccate in immersione, ah grazie, stavo impazzendo, non mi piace, ma riesco anche a muovere le diapositive, no? Solo la luce. Questo pulsante qui vi permette di vedere l'immersione e il grafico, quindi vedete la linea ambiente, questo è quando partiamo, avanti, dopo in immersione compaiono due linee, oggi era naturalmente gialla perché eravamo in aria, quindi gialla significa azoto, invece quando avete anche l'elio è verde e quindi i tessuti si alzano e vi dicono, ok, il tessuto veloce ha raggiunto la pressione ambiente, cioè dentro il mio corpo ce n'è tanta quanta ce n'è fuori. Chiaro? Quindi è semplice, fuori intendo dire nella pomola, non nell'acqua. A questo punto questa cosa vi è utile perché, avanti, poi a un certo punto si illumina di rosso la sosta profonda, cioè dice il compartimento pilota che io ho, che è computer, che ha fatto il software, ha deciso che è quello che determina la decompressione, ha toccato la quantità di azoto che c'è nella bombola e quindi io ti consiglio di fermarti. Attenzione che quindi questo non è il valore M, è soltanto la quantità di azoto che c'è nella bombola. Il valore M che è il massimo che il mio organismo può tollerare sarebbe più su, ok? Quindi non lo vedete nel grafico, ma sapete che c'è un margine. Dopo ci torniamo se fare o meno questa sosta, quindi se decide, perché baralmente sapete che oggigiorno si dice che la sosta profonda è morta, però siamo italiani, quindi intelligenti e a differenza degli americani, eccetera, che fanno sì o no, possiamo pure ragionare e dopo ve lo dico. Avanti? Perché bisogna ragionare, stare attenti? Ora, per il messaggio che date agli allievi, fermatevi a dire, la regola della FIAS che noi abbiamo introdotto già da qualche anno, è regina. Le sosse profonde non si fanno più, incasinano soltanto i conti, le cose varie, quindi è corretto non fare più sosse profonde. Per voi che siete istruttori vi spiego anche il motivo, perché la faccenda dei compartimenti sono studiati in laboratorio e alla fine quando li studiarono negli anni 60 più o meno, avevano messo che il compartimento pilota è 20 minuti. Quando voi fate le tabelle con il coefficiente, quella lettera, L, M, N, rappresenta lo stato dell'azoto nei 20 minuti, cioè del tessuto 20 minuti, che è un organo interno. Avevano escluso i tessuti veloci, il sangue, i muscoli, perché dicevano tanto si carica e si scarica rapidamente. Poi facendo ricerche abbiamo visto che l'orecchio interno ha un tempo di emisaturazione di 8,8 minuti, il midollo ha un tempo di emisaturazione di 12 minuti, col cavolo che praticamente non sono tessuti importanti, l'orecchio interno ti viene a vestibolare, il midollo ti viene a midollare, quindi vanno ripescati questi tessuti veloci. Come li hanno ripescati? Non volendo cambiare il software perché costa un sacco di soldi, hanno messo quegli aggeggini che servono per misurare la pressione della bombola, quindi più consumi, più immagina che il tessuto si sta caricando. Ho la temperatura, più fa freddo, meno scarichi in risalita. A me non piace. Meno roba mettete attorno, meno si incasina il software, meglio ragionare con la testa. Se ho freddo mi metto la muta stagna, se ho ancora più freddo mi metto il colpetto riscaldante. Se praticamente uso il sensore della pressione, se manetto col gavo con la muta stagna, faccio incasinare il computer. Il computer deve stare con tutti i suoi separato da tutto il resto. Ma è una mia posizione personale. Poi questo lascio a voi decidere. Perché è importante questa roba? Perché se voi guardate il grafico che ho messo all'orecchio interno, l'orecchio interno è come una vite. Dentro al giro della vite ci corrono tre tubicini. Un tubicino è connesso con l'orecchio medio, quindi scarica verso il tubicino al centro del sangue. Quindi la parte esterna scarica verso l'orecchio medio e scarica verso il sangue. Quindi è vero che va veloce. Il sangue è il sangue, ma il tubicino interno, quello che sta nella parte interna della spirale, scarica solo verso il sangue. Quindi la velocità di scarico all'interno dell'orecchio è differenziata tra la parte interna, che è un tubicino che scarica solo da un lato verso il sangue, e tutto il resto. Questo è importante se fate immersioni con elio. Perché quando si arriva a una pressione intorno a 4 bar che sarebbero 30 metri, bisogna che gli date un po' di tempo per cominciare a scaricare dalla parte interna verso il sangue. Se no si creano le embolie. Quindi l'incidente a decompressione vestibolare nell'immersione tecnica, la quota critica è 30 metri. Quindi infatti da 30 a 20 potete cominciare a scaricare il sacco, però diciamo ovviamente dovete arrivare a 21 metri, poi puliti. e questo è il ragionamento. Non più giù e non più sotto. Avanti. E veniamo a queste facendo delle bolle. Allora le bolle sono ovviamente, si formano sempre, questo è vero, quindi è una verità che ogni immersione che facciamo produciamo delle bolle. C'è una contenitore. Perché per esempio, molti fanno l'esempio del bicchiere di champagne che fa molte bolle se lavato a mano, quindi fa delle piccole micro lesioni, ma se lo mettete sempre solo nella lavastoviglia non fa più bolle. Quindi ci vuole all'interno della superficie un qualcosa che faccia generare le bolle. Nel corpo umano sarebbe il grasso. Quindi le bolle si formano dove ci sono delle placche di aterosclerosi. E con l'età, quindi oltre 50 anni, e altre cose che vi farò vedere. Se invece uno è il bronzo di liace, ma bronzo di liace ne conosco pochi, a quel punto in teoria non dovrebbe produrre bolle. Questa cosa è dimostrata anche da fatto avanti, che la NASA che ha tanti soldini, siccome hanno il problema di avere l'incidente a decompressione quando l'astronauta passa dal veicolo extraspaziale, cioè quando esce fuori nello spazio, si chiama EVA, quando rientra nell'astronave, lui passa da un bar a 0,4 bar. La differenza è come fare un'immersione da 40 metri alla superficie. Quindi loro, ovviamente, in questo delta, hanno una produzione di bolle tale per cui si imbolizzavano. E quindi la NASA ha investito un sacco di soldi su questa faccenda. L'hanno poi risolta facendogli respirare ossigeno prima di uscire nell'EVA e trattandogli con ossigeno quando rientrano nell'astronave. Però per fare questi studi ci hanno regalato delle cose simpatiche, tipo per esempio quella delle piastre, dove il modello con cui sono stati calcolati tutte le nostre tabelle, è un modello, si dice, in fase acquosa. Quindi questo qui è un modello che c'è dell'acqua dentro e allora tu lo decomprimi da 40 metri alla superficie e produci qualche bolla. In realtà se invece nel modello ci metti un po' di surfattante, un po' di grasso che noi abbiamo in corpo, a questo punto guardate a parità di decompressione quante bolle faccio. E quindi qual è più veritiero? Il modello occuoso o il modello con il surfattante? Quello con il surfattante mi pare ovvio. Quindi noi facciamo un sacco di bolle. Per dieci anni è stato il mantra. Voi fate bolle sott'acqua, voi dovete fermarvi per cercare di evitare che le bolle si ingrandiscono. Tutti gli studi che fa il Dan per cercare le bolle. Poi abbiamo scoperto che in realtà, io avanti, abbiamo scoperto che ovviamente di bolle se ne fanno talmente tante, sappiamo pure quanto, se ne fanno 0,12 bolle per ogni centimetro quadro di endotelio. L'endotelio è un, se voi lo guardate è così, è la superficie interna dei vasi sanguigni. Sono cellule che respirano, quindi producono l'ente carbonica e pesa un chilo e mezzo il nostro endotelio, quindi è tanto. Un vaso vicino all'altro fa una superficie grande quanto un campo da calcetto, quindi è tanta roba. Allora questo endotelio normalmente è tranquillo. Quando però si rovina, si scortica, a quel punto, e possono essere per le bolle, cosa fa? Spruzza delle sostanze chimiche che si chiamano citochine, chine significa muove le cellule, avanti, e i gobboli bianchi che sono quelle palle da golf che vedete qui, diventano, emettono dei tentacoli. Questi tentacoli ovviamente si attaccano all'endotelio, l'endotelio gli dà fastidio perché un gobbolo bianco è come una mongolfiera, è 15 volte più grosso di un globulo rosso. Gli arriva sta mongolfiera addosso e lui si straccia. Quindi si stracciandosi il gobbolo bianco, i liquidi passano dall'altra parte e si gonfia. Oggi il mio bambino volante è finito su uno dei nostri amici e da lì è partito il processo infiammatorio che è questo, cioè un po' di ha spruzzato delle citochine, è arrivato con i gobboli bianchi perché pensano che c'è un danno e lui si sente un po' infiammato. Poi torna tutto indietro. Però questo è il meccanismo dell'infiammazione. Alla fine, questi sono il danno, cioè quando poi si rovina l'endotelio si producono queste piccole palline che si chiamano microparticelle che sono quindi esito di un danno dell'endotelio. Quando queste le vediamo vuol dire che si è danneggiato. Allora per un periodo di tempo noi abbiamo detto le bolle sono pericolose. Poi abbiamo detto cavolo ma io produco 0,12 bolle per centimetro quadro che su questa grande superficie, fatti conto per me, io produco 480.000 bolle di immersione. E chi se ne frega? Cioè che io faccio 400.000 bolle o 600.000 o 300.000 o 250.000, non è quello che fa l'incidente. Quindi noi le definiamo in grado bolle che passano attraverso il cuore eccetera. Certamente un grado 3, un grado 4 è più pericoloso ma non c'è correlazione con l'incidente. Altra cosa, le stesse palline che qui vedete, queste microparticelle, che quindi sono esito di un danno, vengono lette dal Doppler come bolle. Quindi si capisce più niente. Cioè quello che io vedo al Doppler, non so più se sono le bolle che fanno danno o le microparticelle che sono esito del danno stesso. Per confondere ancora in più la cosa, la microparticella è di tre tipi. È una pallina, può essere vuota e non dà fastidio, può contenere delle sostanze buone, cioè non tossiche, solo le palline che contengono dentro alcune sostanze determinano poi il danno. Quindi io dovrei non solo vederle col Doppler, questa roba, ma dovrei anche discriminare quanto si fa. Ecco perché adesso gli unici studi utili che voi dovete leggere, se volete leggere, sono quelli dove viene abbinato il grado Doppler di bolle con un prelievo di sangue. Perché prendendo il prelievo di sangue, io vado a prendere queste palline, le apro, guardo cosa c'è dentro e allora vi dico, si hai prodotto tante di quelle bollisci e di quelle palline che sono dannose. E quindi la probabilità di rischio è alta. Tutti gli studi solo con il Doppler sono inutili. Oggigiorno, 2017. Chiaro? Avanti. Io, da quello che dovete portare a casa, semplicemente siamo ancora nella fase, non servono più le soste profonde, questo è per voi. Però vi voglio far vedere ancora come siamo arrivati in dettaglio in medicina subacquea. La superficie interna dei vasi sanguigni ha tanti piccoli buchi, sono dei pori, che sono chiusi dal magnesio. Quando ovviamente arriva la bolla che fa tipo effetto bullying, cioè mi sboccia, mi toglie la molecola di magnesio, mi toglie quel cappuccio che vedete, questo qui, alla fine entra dentro il calcio. Quando io tolgo il magnesio e il calcio entra dentro, a quel punto il calcio è tossico. Una cosa che abbiamo scoperto molto interessante è che il canale, è vero che il magnesio può andare via perché gli arriva una bolla e fa bullying, oppure fa boccette, come fanno i vecchietti. Però di fatto è anche vero che dentro la parete del canale c'è un sensore che è sensibile alla differenza di potenziale elettrico, che dovete leggerlo quanto ossigeno c'è alla miscela. L'ossigeno è un accettore di elettroni, quindi quando voi cambiate l'ossigeno cambiate la corrente elettrica del vostro corpo. Noi con l'iperbarica, io sono l'ingegnere elettronico dei medici, perché vado a gestire quanto ossigeno do e riparo un tessuto rispetto all'altro. Lo stesso fate voi un'immersione, cambiando le versioni parziali dell'ossigeno e dell'azoto regolate la corrente elettrica al vostro organismo. Se sbagliate che dà troppo ossigeno a troppo azoto, aprite il canale ed entra il calcio dentro. Che succede quando in pratica entra il calcio dentro? Una cosa molto carina, carina fisiologicamente, antipatica per l'organismo. Il calcio nella membrana esistono queste proteine, sono come delle patate, che hanno da una parte una zona tossica. Quando entra il calcio c'è un meccanismo che si chiama flip-flop, di fatti la sostanza che lo fa attivare si chiama flopasi, fa girare la proteina all'esterno, quindi il lato tossico va verso fuori. Questo lato tossico si chiama foshfadidilserina, questo qui foshfadidilserina, quando è sull'esterno è un messaggio che viene chiamato hit me, mangiami. Quindi arrivano i gobuli bianchi e dicono tu hai un problema, toglili dalle palle. E quindi fa quelle microparticelle che vi ho raccontato. Ho chiaro? Quindi a questo punto, tanto è vero che stavo pensando, avanti, cos'è che praticamente fa attivare questo meccanismo? Pressioni parziali dell'azodo superiore a 3,16. Mi è stato raccomandato di ricordarvelo. Non è che andando profondo in aria non si può fare, ma quanta gente c'è che andava a 70 metri, 60, 70, 120 in aria e non gli è mai successo niente. Ma chi mi lo raccontava era gente che sono o adesso dirigenti di litri lavori subacquei, oppure c'è gente che lo faceva quando erano giovani, quindi non dico bronzitiriacee, ma praticamente in buona forma e l'hanno fatto un determinato numero di volte e adesso mi dicono che non lo farebbero più. Sei rincitrullito, hai delle problematiche, dal punto di vista dell'organismo ogni volta che tu fai questo non fai altro che attivare il suo meccanismo. Ora non è che ci rimani fulminato, ma danneggia un giorno, danneggia due, se io ho un o-ring, non lo lubrifico mai, voi andreste con un rebiter lasciato in garage senza mai fargli nessuna manutenzione? O volereste con un elicottero senza mai fargli manutenzione? Andreste in moto senza fare motivo di manutenzione? Quindi se vuoi una volta, due, tre, sì ti va, poi la paghi. Quindi andare in aria profonda, stressi l'endotelio, lo crepi e poi prima o poi succede il casino. Più volte lo fai, più non lo racconti. Quindi non ha nessunissimo senso. Oggigiorno nessuno va in aria profonda, che senso ha? Ma se lo stesso succede, siccome il nostro organismo non legge la profondità, legge le persone parziali, lo stesso succederebbe se voi usate persone parziali dell'azoto superiore all'equivalente che c'è in aria a 30 metri e se utilizzate l'ossigeno superiore a 1,2, 1,3, 1,4. Tutta questa storia che vi ho detto, la perdita di affezione verso le bolle, eccetera, ha portato alla morte delle soste profonde. Se io sul fondo mi infiammo, mi infiammo sempre, ma perché devo stare un sacco di tempo in decompressione? Allora guardando le decompressioni, tanto appeso, la decompressione che è più lunga e quella peggiore. Se hai due decompressioni, io scelgo quella ragionevolmente accettabile, perché allora non è che vado subito su, però quella ragionevolmente accettabile è la più corta e la più efficace. Questa roba l'hanno dimostrato, perché Marroni era uscito nel 2004 con un bellissimo studio su immersioni ripetitive 25 metri, 25 minuti. E l'ha dimostrato che era utile fare le soste profonde. Qua dopo tutti le hanno messe anche per le immersioni profonde e allora hanno cominciato i francesi a dire, ma facendo immersione a 60 metri e poi la seconda a 50 non ci convince mica, sono aumentate un sacco i danni al numero di bolle e le particelle. E poi gli americani che ossificavano dei francesi hanno fatto lo stesso studio, hanno detto, sì a 50 metri se io metto una sosta a 21 metri è molto peggio, ho addirittura degli incidenti di decompressione 3-4 volte di più che non metterla a quella sosta profonda. Per cui nel 2007 i norvegesi che sono i più forti per la ricerca in Europa hanno detto, basta se le soste profonde hanno un senso solo, se ritorni a quello che aveva detto Marroni nel 2004, cioè immersioni ripetitive nella fascia critica dei 30 metri, 25-30 metri, oppure se stai un sacco di tempo sott'acqua. Però che senso ha fare una sosta profonda quando hai fatto l'immersione a 25 metri? Significa che la fai a 9 metri, 9 o 6, fai quello a 5, fai fatto prima. Avanti, avanti. Su punto è venuta la nuova filosofia. Gli inglesi hanno detto, vabbè, guardiamo sul mondo il lavoro subacqueo, abbiamo un milione di euro, come dicevo prima, di danno per blocco di cantiere. Qual è il problema? Hanno fatto le indagini statistiche e hanno visto che la maggior parte dei problemi sono per patologie dei vasi sanguigni, cardiovascolari, ictus, problemi di cuore, robe varie. Hanno guardato le età dei subacquei, la maggior parte non ha più 30 anni ma ha 50 anni. Hanno guardato una serie di cose e hanno detto, bene, a questo punto hanno obbligato l'azienda da settembre 2017 a fare un corso di formazione a tutti i dipendenti, gli OTS, sul buona forma fisica. Hanno dato ordine a noi dottori, non accetteremo più gente che va in acqua che ha un body mass index superiore a 35, cosa che vi farò vedere adesso. Cioè, hanno recuperato l'attenzione alla forma fisica, tralasciando, riducendo l'attenzione per il profilo di immersione. Ci sono due fattori non modificabili, l'età alla genetica e dei fattori invece modificabili. I fattori che sono, ve li faccio vedere dopo, dai, avanti. Allora, per quanto riguarda la genetica, oggi sappiamo che esiste il cromosoma numero 7, un gene che permette di controllare, guarda caso, tutta una serie di cose che sono correlate con l'endotelio. Quindi produce il monosso di azoto che è un lubrificante, produce l'enzima convertitore della geotensina, cioè sarebbe una roba che regola il diametro del vaso sanguigno e quando è alterato viene l'ipertensione. E poi, diciamo, ovviamente, lì ci sono anche tutti i geni che riguardano la coagulazione del sangue. Quindi, chi li ha alterati è più predisposto ad avere dei trombi. A questo punto si fanno questi esami, che poi non costa neanche tanto, cioè con la convenzione dell'università, credo che 300-150 euro costa un esame del genere, avanti. E chi ha alterato questo esame è più predisposto all'età in età giovanile, avanti, l'infarto in età giovanile e a molti tipi di tumore. A me è capitato, è bellissimo, perché mi dice il genetista, dice Pasquale, ma noi abbiamo una positività sulla popolazione che noi testiamo, sono positivi 10-20%, 1-2 su 10, i tuoi sono positivi 8-9 su 10. Dico sì, perché io li seleziono, cioè mi mandano la documentazione, vedo la familiarità, uno aveva, il mio padre ha avuto un tumore alla vescica, io ho avuto un papilloma a rene, faccio falso test, oppure in famiglia ho ictus, oppure ipertensione, eccetera, colesterolo alto, gli faccio fare test, quindi per questo ne sbaglio 1 su 10. E avanti, l'altra cosa che sempre tra un attimo vi faccio vedere, ci viene da dire tra un po', sono il colesterolo, certamente perché il colesterolo è da dove partono poi le placche, l'età dei 50 anni perché ai 50 anni è il momento in cui i goblini bianchi sono meno tolleranti, diventano più sclerotici, si incazzano più facilmente. Per non spaventarvi, questa infiammazione che si fa in immersione regredisce dopo 24 ore. Avanti. Quindi noi abbiamo le bolle che hanno il picco a due ore e poi calano, di fatti la FIAS si fa bene a dire, se si fanno emersioni repetitive, intervallo di superficie a meno due ore. Fa capo alle bolle. Poi, i tessuti più o meno 12 ore, poi sappiamo che se fate emersioni pesanti, profonde, anche 14 ore, però 12 va bene come memorizzazione. E poi dobbiamo aggiungere quest'altro parametro, l'infiammazione 24 ore. Questo è utile se fate emersione tecnica pesante oppure emersione sulle crociere, sapete che praticamente vi portate dietro un carico di infiammazione e poi vediamo magari qualcosa per ridurla. Avanti. Per avere l'incidente, quant'è che a questo punto succede l'incidente? Non dipende dal carico delle bolle. Non è che 480.000 bolle non ho incidente, 481.000 io ho l'incidente. No. Dipende dal fatto se dentro quelle particelle che sono partite ci stanno alcune sostanze che sono in pratica quelle che sono più aggressive. Se ci sono aggressive e salgono di circa 12 volte queste palline, allora io ho l'incidente. Se salgono di 2 volte, 2 volte e mezza non ho l'incidente. Il fatto che salgono a 11, non a 2, dipende dalla forma fisica. Lì diceva che non guardate solo le macchie sulla pelle, ma anche la stanchezza, il fatto che dopo l'immersione mi fa male un po' la schiena, mi sento stanco, sonno, sono segnali di infiammazione. Sentirsi bello in forma, aver voglia di dipendere, donna vieni qua, andiamo in camera, in pratica quello significa che l'immersione sarà fatta proprio bene. Allora, queste sono le cose che vi raccontavo. Quindi mi raccomando, una volta all'anno, fatevi un controllo, perché io avevo il colesterolo un poco alto, avevo praticamente la pipì acida, ho dovuto ricontrollare il tutto, mettermi in forma, perché avendo un'età più di 50 anni e test genetico alterato, so bene che se non sto attento, io praticamente rischio. Ma non solo quello, anche l'infarto liquidus e altre robe. E allora ho aggiustato tutto, impasticcatevi. Cioè se cerco l'esteroolo alto e non riuscite a mantenerlo con l'alimentazione, viva Dio, prendetevi la pasticca. C'è la pressione alta, prendetevi la pasticca. Cioè quello che può servire per mantenere l'organismo nella regola, va benissimo. Abbiamo abbattuto tutto, quindi perché vogliamo che l'organismo umano sia compatibilmente nella norma, perché oggigiorno purtroppo siamo diventati sedentari. Cioè io adesso non ho il tempo di mezzo alla diapositiva, ma mi sono fermato una volta in una metropolitana, sono dieci minuti, la gente viva per scemo a fare fotografie. C'era la scala, la scala mobile, o uno che fosse salito sulla scala, tutti con la scala mobile. Quindi siamo pigri, prendiamo tutti l'ascensore. Io a casa mia abitavo a settimo piano, salivo sempre a piedi, avrò incontrato in tanti anni una o due ragazze giovani che salivano a scendere, ma tutti prendiamo tutti quanti l'ascensore. Quindi siamo pigri. La sera non bisognerebbe mangiare, bisognerebbe mangiare quando vuoi fino alle 5. Poi la sera bisognerebbe stare leggeri. Mangiamo di sera per motivi sociali. E quello ce lo portiamo di notte, la notte ci fa fare acidosi. L'acidosi è la gramigna che fa avvenire poi tumori, infarto e tutto il resto. Questo è messo in tabella. In tabella voi vedete che l'età di sopra i 50 anni aumenta di 13 volte il rischio. Cioè rispetto al bronzo di liace, un ultracinquantenne ha 13 volte più probabilità di avere un incidente. Ora ve lo concretizzo, ma date già in fondo, questo è il mio. Io ho un incidente invece di ogni 15.000 immersioni che sarebbe il bronzo di liace, io ho un incidente ogni 1000 immersioni. Ma va bene, chi le fa 1000 immersioni? Quindi non vi spaventate. Però ho 13 volte più a rischio perché io ho più di 50 anni. Poi ho 3 volte perché ho il test alterato, ma di poco. Ho messo a posto tutti gli altri, quindi tutto è 0. Ma vedete che contano il colesterolo, si conta, lì è scritto quello totale, in realtà abbiamo cambiato, si conta il colesterolo LDL. Quindi quando fate gli esami chiedete colesterolo LDL, la persona normale deve avere 130, la persona che ha avuto un infarto, dei problemi, eccetera, deve avere 100. Quello che ha avuto tumore e tutto il resto deve avere 70. Ok? Quindi diciamo abbiamo livelli diversi a secondo dei problemi. Poi c'è la cosa più importante è il body mass index, il rapporto tra altezza e peso. Deve essere, allora il normale 25, però il subacqueo può avere 30, si sa, il subacqueo magro non è necessario. Basta che sia leggero sovrappeso, io ho 27. Superiore, superato 30 si va in allarme tra 30 e 35 e bisogna fare il test da sforzo. Il test da sforzo sulla bicicletta il rapporto deve essere superiore a 10 per la subacqueo tecnica, superiore a 7 per la subacqueo ricreativa. Quindi più di 30 di body mass index è obbligatorio avere il cuore che funziona bene. Sopra 35, manco ti faccio il test perché sei troppo al rischio di body mass index. Poi il fumo è il fattore di rischio più grosso per l'incidente a decompressione. Lo shunt destra-sinistra, lo sapete, l'acidosi bisogna correggerla perché la gramigna e poi l'immersione. L'infiammazione si può regolare, per fortuna. Non è che uno, a me stesso, non è che è sempre così ogni volta che vada in acqua. Dipende da alcuni fattori che sono avanti. La protezione termica. Cioè se avete freddo l'immersione sapete che in quel momento state scatenando l'infiammazione. Quindi mai freddo l'immersione, usate corpetti. Viva emissione tecnica o emissione lunga, utilizzate il coperto riscaldante. Mi interessa accenderlo dal fondo alla superficie perché un po' di freddo in discesa va bene, carica di meno i tessuti. Vasocostrizione, carica di meno i tessuti. Ma dal fondo alla risalita dovete stare in buono stato termico. Non dipende dalla temperatura dell'acqua. Lo stato termico è un concetto che non è correlato, ecco perché non credo nel computer, perché lui legge la temperatura dell'acqua. Lo stato termico è una sensazione soggettiva di benessere. Io posso andare in acqua, oggi avevo quasi caldo, invece ovviamente ci va un'altra persona e ha freddo. Quindi è la percezione del freddo. Quando avete il brivido sicuro state facendo infiammazione. Ma la sensazione di freddo è individuale. Quindi non è legato con la temperatura dell'acqua. Attenzione a questo. Nell'arco di pochi anni, chi fa il perito per i tribunali e quando si fa il consenso per gli allievi, le persone, eccetera, dovete indicare due parametri importanti. La temperatura e praticamente la corrente. Quindi si deve dire questa immersione quasi non è che sparisce, ma più che dire è un'immersione profonda, tanto lo deve fare nei limiti del brevetto. Non potete portare un open oltre 20 metri, no? O un advance ad otto i 30. Oggi noi nei consulenti guardiamo. Gli hai detto che quell'immersione era un'immersione in acqua fredda, eccetera, e quindi in lago, faccio un esempio, altro. Lui era adeguatamente preparato per questo. E il discorso ovviamente è il... Poi, vabbè, concetti generali, avanti. La muta non deve mai essere troppo stretta, se no avete la compressione toracica, quindi aumento dell'edema. E quando fa freddo uno è anche un po' più rincitrullito, quindi per questo il consulente lo guarda, perché se questo aveva freddo, alla fine era anche meno capace di rispondere ai vostri comandi. Avanti. L'altra cosa è lo sforzo fisico. L'attività fisica comporta attivazione dell'infiammazione. Questo è dimostrato in mille modi, vi faccio vedere anche questo bello studio. Abbiamo preso dei subacqui, esperti, li abbiamo portati a 30 metri. Li abbiamo fatti pedalare, ora nel mio studio pedalate fino al 90% della frequenza cardiaca massimale. Invece ai subacqui li abbiamo fatti pedalare al 30% della frequenza cardiaca massimale, quindi neanche tanto. Guardate quante bolle si producevano nel cuore, le palline bianche. Poi gli abbiamo fatto una spruzzatina di nitroglicerina, quella che si dà per chi ha l'angina. Gli abbiamo fatto sulla spruzzatina e vedete che allo stesso lavoro non aveva più bolle. Quindi se io faccio un'attività fisica che produce monosso di azoto, lubrifica i vasi sanguigni, il sangue è più sciolto e produce meno bolle. Quindi è una cosa buona. Se invece faccio troppa attività fisica, quindi corrente contro, pedalo, fanno, eccetera, allora a questo punto scateno quelle sostanze infiammatorie che fanno tutti i lavori che vi ho detto prima. Avanti. E quindi oggigiorno diciamo che normalmente devi fare attività regolare. Che significa? 90 minuti a settimana. Puoi distribuirteli come vuoi. Io faccio 15 minuti, 20 minuti per 3-4 volte a settimana in modo tale da arrivare almeno 80-90. Una mattina presto mi vedo, 20 minuti li trovo per mezz'ora. Però devo farli tirati, perché devo farli a 70% della mia frequenza cardieca massimale. Quindi si fa così, 220, meno l'età, nel mio caso 56 anni, per 0,7-70% devo andare a 115 battiti al minuto. Quindi all'inizio l'ho fatto col cardiofrequenzimetro, adesso so che il giro che faccio, la velocità che devo avere. Questo so che è protettivo. E di fatti lo faccio. Se invece voglio andare più piano, allora vi faccio l'ora di passeggiatina, di camminata, però deve essere almeno 150-200 minuti. Quindi o faccio 150-200 minuti più tranquilli, passeggiata, oppure vado tosto così. Avanti. Non fate sforzo fisico intenso nelle 24 ore prima dell'immersione perché producete queste sostanze infiammatorie. Avanti. E poi ovviamente sul fondo, se possibile, utilizzate gli scooter perché è una figata. Una volta che cominci a usare non lo lasci più. Però in decompressione, oggi avevo 10 minuti di decompressione, non usate lo scooter. Cioè dovete muovere le gambe per togliere un po' di bolle. Avanti. In qualsiasi caso evitate di sovraccaricare le articolazioni con l'attrezzatura pesante della subacqua tecnica. Avanti. Il gas più fedente in assoluto per le miscele è l'anide carbonica. Quindi hanno dimostrato che l'anide carbonica è quella che scatena l'infiammazione. Acidosi, l'anide carbonica. Quindi mi raccomando che l'anide la legge vuole che il valore normale è 500 parti per milione. È tollerato fino a mille. Superato mille dovrebbero esserci dei sensori che leggono l'ambiente e fanno partire il ventilatore. Io non li ho mai visti. Quindi alla fine a volte si arriva a 4.000 parti per milione negli uffici chiusi. E ve lo portate sott'acqua. Cosa diversa è che vive all'aria aperta. Simone Nicolini, lui sicuramente avrà il valore normale di 400 parti per milione. Questa roba io la uso molto nel tunneling. Io lavoro per questa roba qui dei tunnel eccetera e noi dobbiamo misurare la pressione preziale dell'anide carbonica prima perché quando poi fanno lo scavo in galleria, a secondo la pressione che vanno, il valore cambia. È la pressione relativa. Quindi se ho già parto alto, soffondo è ancora peggio. Avanti. Questa salta, la vai avanti. Allora, 30 minuti di esposizione continua. Se tu esci prima di 30 minuti da quell'ambiente non te ne accorgi neanche. Dopo 30 minuti parte l'infiammazione. Poi dipende da quanto tempo esci da quell'ambiente lì. Può durare fino a 24 ore dopo dall'uscita da quell'ambiente. Torno un attimo indietro se puoi. Facete solo questo. Attenzione. Il pH del sangue è sempre 7,4. È obbligatorio, se no avremmo l'arresto del cuore. Però se voi vedete l'esame della pipia, io trovo un sacco che hanno la pipia 5, 6. Cosa vuol dire? Che se la pipia 5 e il sangue è 7,4 è compensato consumando bicarbonato. Ve ne accorgete chi consuma bicarbonato perché si altera il sistema neurovegetativo. Quindi se va sull'accelerazione, sul simpatico, avete insonnia la notte, vi svegliate spesso e volentieri, fate un sacco di volte la pipì e praticamente avete un po' di tachicardia o sudorazione. Se va sul parasimpatico che è il freno, vi accorgete perché verso le 2, oppure la sera arrivate e mettete sul divano, quindi questo significa che avete consumato il bicarbonato. Quindi siete squilibrati sull'acceleratore e freno dell'organismo. E questa è una cosa che non funziona. Tanto sapete quindi che, anche perché è logico, se avete consumato il bicarbonato, l'anite carbonica che producete in immersione rimane libera. Se rimane libera il sangue è acido e non c'è spazio per l'azoto o per l'elio. Cioè chi è inacidosi toglie spazio al gas inerte per andare via. In termini tecnico si dice si riduce la finestra dell'ossigeno. Quindi questa roba qui puoi fare tutti i conti che vuoi, ma dipende da quello che mangi. Verdura, frutta e attività fisica alzano il pH. Proteine e carboidrati di sera dopo le 5 abbassano il pH. Questo è il discorso dell'edicarbonica. Hanno fatto gli studi, ma su una roba del 2017, che alzando l'edicarbonica a oltre 0,2%, 0,4% addirittura, sia nell'uomo che nel topo, tu hai un sacco di infiammazione. Come vi dicevo, puoi starci massimo 30 minuti in immersione sotto alta CO2, però poi deve uscire fuori. Questo pensate al rebreater, al discorso della calce, del filtrante. Avanti, avanti. E falla tutta questa qua, facciamo prima. Allora, hanno visto che succedeva nell'immersione con il rebreater e guardate come l'edicarbonica sale, poi dopo funziona il filtro, poi risale. Cioè l'edicarbonica è variabile durante l'immersione. Se questo è normale, abbiamo a volte delle punte molto pericolose nell'edicarbonica. E quindi attenzione al tipo di filtro, che è diventato oramai la cosa più importante del rebreater. Vanno meglio, in pratica, i filtranti piccolini. Più piccolo è, meglio è. Se voi utilizzate il 797, ha praticamente una durata, è un'efficacia molto maggiore dello Sferasol, che è un po' più grande come palline. Poi dipende da come lo conservate. Se io, per esempio, il peggio del peggio è tenerlo aperto, il filtro. Se invece lo tenete conservato in una busta chiusa, già migliora molto. Il meglio del meglio è a pillola, usarlo entro la notte, lo sistemate la sera prima e la mattina dopo fate l'immersione. Cioè una notte di tempo. Però sempre 24 ore. È il meglio del meglio. Altrimenti va conservato massimo un mese e sigillato. Se sta aperto, non è affidabile. Quindi più piccola possibile la pallina è conservato bene. E questo è invece l'azoto, non deve mai superare, come vi ho detto, 3,16, che corrisponde all'aria a 30 metri. Dopo parte l'infiammazione. Specialmente se ci sono miscele con molto azoto, rispetto all'elio che è invece amico dell'uomo. Avanti. Di fatti l'elio, come vedete, non protegge il subacqueo, abbiamo fatto un sacco di esperimenti. Abbiamo visto che non determina l'attivazione delle piastrine, non determina l'attivazione della coagulazione e non fa il danno mascolare. Quindi più elio avete, l'elio è curativo. Avanti. Questo è lo studio fatto con Simone Nicolini e Stefania Menza. Abbiamo provato a fare sia le bolle Doppler che il prelievo di sangue. Questi sono i ricreativi, sono quelle sostanze cattive. Si chiamano citochine L2, citochine L5. Vedete che dopo l'inversione aumentavano fortemente. L'inversione è a 30 metri questa. Avanti. Poi abbiamo fatto la decompressione mnemonica. Ma non è che è sbagliata la mnemonica perché è mnemonica. È che questa decompressione durava 15 minuti in più di quella col computer compartimentale. Quindi sono i 15 minuti in più che hanno fatto la differenza. E guardate come è aumentata l'infiammazione. Poi abbiamo fatto il sistema compartimentale. Avanti. E in pratica, vedete, questo è Buhlmann, non c'è l'infiammazione. Quindi tra i tre sistemi, questa roba 2017, è stato dimostrato che, detto bene, la decompressione più corta è la migliore. Bene? Avanti. Quindi, chiudendo, bisogna fare la sossa profonda? Dipende. Quando io arrivo qui, vedete che i tessuti veloci sono arrivati al limite dell'azoto che sta nella bombola. C'ho un margine ancora, io, di utilità? Sto facendo infiammazione? Sì. Mi conviene fare questa sosta qui? No. Perché, praticamente, ho un margine ancora per quanto riguarda l'azoto. So che sto producendo infiammazione. Come faccio a sapere che sto producendo infiammazione? Ma semplice. Avanti. Guardate questo esempio che c'era qui. L'ho preso perché era nel sito dell'Adavisystem. Adavisystem ha fatto 59 metri, ha praticamente in aria, perché la gialla è l'aria. Allora, a questo punto, 59 metri sono 6,9 bar. La pressione del paziente d'ossigeno è 5,45 e l'ossigeno è 1,45. Viva Dio, è molto più alto di quello che vi ho detto. Quindi sta facendo infiammazione. Oppure me la sento addosso, perché se ho fatto un sacco di... Oggi mi hanno detto che mi hanno trovato la corrente, io con lo scudo lo me ne sono accorto, ma c'era veramente corrente, e quindi hanno fatto infiammazione. O chi aveva freddo, o chi sa che veniva la notte e che non ha dormito. Allora, in quel punto non serve fare... Avanti. In questo esempio non serve fare la sossa profonda. Ma si vede sott'acqua. Basta che non superate la linea gialla o verde, o se la superate nei tessuti veloci, non vi sentite bene. Cioè io non ho problemi sott'acqua, non ho freddo, non ho fatto sforzo, e niente, che sto a fare lì? Me ne vado fuori. Avanti? Il gradient factor migliore adesso è 40-80, il DAND dice 70, però il 40 sapete che mette la sossa profonda, quindi l'abbiamo alzato, e l'80 il tempo in minuti vicino alla superficie. Questo è come se adesso stiamo impostando, consigliando di impostare i computer. Un 20, la sossa è troppo profonda, non lo vogliamo più. Questo potete decidere voi, dipende da quanta decompressione dovete fare, da dove venite. Se l'immersione è molto lunga, potete alzare questo. Corrisponde questo parametro a un WPM più 3. Avanti? Chiudo, perché vi ho promesso che, come faccio a ridurre l'infiammazione? Tutti gli studi pagati dalla comunità europea stanno andando per questo. Allora, nei subacquei hanno dimostrato che l'acido ascorbico, cioè tutto ciò che viene dalla frutta rossa, verdura rossa, e perché no, anche un bicchiere di vino rosso, determina, ovviamente, oppure se prendete un medicinale, l'acido ascorbico 2 grammi, un grammo per due volte al giorno, per 6 giorni, e più la mattina dell'immersione, come vedete, non fa più produrre le microparticelle, cioè blocca la produzione delle microparticelle. Va molto di moda l'acido alfa lipoico, va molto di moda gli antiossidanti. Avanti? Vedete come i goblini bianchi, questo è il gruppo che non ha fatto l'acido ascorbico, si è fatto infiammazione, e questo è quello che ha fatto l'acido ascorbico, non fa l'infiammazione. Avanti? Io adoro molto il polline di miele, perché, evidentemente, è un prodotto naturale che a me piace tanto, e gli studi scientifici pubblicati nel 2016 hanno dimostrato che toglie la terosclerosi, perché no? toglie l'infiammazione, ve l'ho spiegato tutta la lezione, ed è un antiossidante. Si prende un cucchiaio di, un cucchiaio di, la mattina, va tenuto in frigorifero, questo qui, perché non è proprio fresco, e questo invece è asciutto, però non liofilizzato, deve essere soltanto essiccato. Avanti? L'ultima diapositiva è questa, e dice una cosa, ho paura che voi usciate con l'idea che l'infiammazione consumi il subacqueo. solo se sbagliate, perché praticamente un po' di infiammazione tutte le volte che andate in immersione induce nel nostro organismo un sistema di difesa. È quello che si chiama, avanti, nitritizzazione, perché c'era il suo re che per non essere abrenato prendeva un miscuglio di 60 veleni tutti i giorni, e alla fine quando poi si voleva suicidare prendendo il veleno non riusciva a morire, si dovete pugnalare. Quindi il subacqueo che tutti i giorni fa, cioè che fa più di 30-40 ore di immersione in anno, il limite è 30 ore di immersione in anno, ha una sorta di protezione naturale contro le malattie vascolari che sono lictus, infarto e altre patologie del cuore. Quindi, mi raccomando, la subacquea va insegnata così, è uno sport benefico perché è come fare un vaccino contro le malattie del sangue, però devi avere una buona forma fisica. Avanti? Allora, mi raccomando, se volete queste slide, a parte che la FIAS le do agli amici che le chiedono, ma normalmente noi le mandiamo a tutti i soci della Simesi, che le hanno già ricevute, chi di voi è della Simesi, vengono inviate per e-mail, dopo un mese o due le pubblichiamo sul sito della Simesi. Quindi, se volete essere già aggiornati, iscrivetevi alla società. Avanti? Grazie. Se avete qualsiasi, i tempi sono stretti, ma se avete qualche domanda anche a livello federale, sono qui, usa. Siccome sott'acqua sono sempre stato uno che respira poco, cioè mi dimentico di respirare, sono un apneista anche quando ho l'ara sulle spalle, se non ci sto attento e non ci penso, esco dall'immersione con un cerchio alla testa e ho sempre detto che accumulo di CO2. Non è sbagliato, è questo quindi. Quindi io creo il problema da solo. Specialmente se parti da una CO2 già alta, perché facendo il test della pipì con una carta tornasole, costa un euro in farmacia, hai un pH sotto 6. Quindi già te la porti dietro, allora a quel punto, perché l'ossigeno viene trasformato in inate carbonica, che precipita sotto forma di bicarbonato, al 90%. Ma se tu ce l'hai invece nel sangue, perché sei in acidosi, ne aggiungi alta con questa tecnica, sale a un livello tale per cui ti vede il mal di testa. Ma comunque, questo di prima era un esempio che io lavoro in fuori, quindi non è caratteristico. Però si accumula per il mangiare molto, perché se uno mangia molto proteine e carboidrati, la sera. Tu vuole idea. Scusa, Valcuale. Quindi uno dei parametri per aumentare la nostra sicurezza in immersione, adesso parlo per le immersioni tecniche, è quello di utilizzare degli algoritmi che sono non spreconi dei tempi di decompressione, cioè contenere i tempi di decompressione. Ora, all'inizio della nostra attività di Rebriterari, il buon Donda ci aveva dato delle tabelle RGBM, che sono a bolle. Ecco, però, almeno io, ma anche gli altri, dopo qualche uso, l'abbiamo abbandonata perché erano terribilmente corte, nel senso che confrontate con la... Adesso, cioè, ritieni che sia utile tornare a utilizzarle. Il problema è questo. Partiamo da un concetto istituzionale. 2003 si diceva che i modelli più affidabili erano i compartimentali. nel 2017 non abbiamo fatto ancora un consenso, però la letteratura è questa qui, abbiamo ripescato i modelli compartimentali. Se uno si muove con un'ottica federale o con un'ottica di vigile fuoco, anche loro mi hanno chiesto, stiamo facendo adesso un grosso lavoro sull'immersione alta quota in Trentino, ci dobbiamo muovere sui compartimentali perché sono quelli più affidabili, più sicuri. L'RGBM ha avuto il suo momento di gloria quando pensavamo che le bolle fossero responsabili, adesso sta in calo. Però, quando abbiamo fatto i corsi per imparare a fare i software, ti ricordi come facevamo? Prendevamo in pratica il modello più veloce in assoluto, poi lo portavamo sul modello al Deco Planner e cercavamo di trovare in modo tale che il Deco Planner mi leggesse il minimo possibile. Non l'avevamo fatto perché ci sembrava era Bonuncelli il generaloide che aveva avuto questa idea e noi l'abbiamo da un po' ingegneristico studiata così. Abbiamo trasformato il minimo possibile sul modello compartimentale. Io rimarrei così, tu prova a prendere quello che ti ha dato tonda, passalo sul modello compartimentale, se devi alzare un po', alzalo, ma mantieniti al minimo possibile del compartimentale. Magari alzate, sicuro, una volta che siete arrivati a 30 metri, il Guardian Factor Law non serve più, 100. E dopo di che giustate con il Guardian Factor AI che sarebbe il tempo nella parte bassa perché il LOW mi serve quando sto sul fondo, ma dopo, quando ho raggiunto i 30-40 metri, i 30 metri, lo abbandono e gioco soltanto 70, 80, 85, 90, capito? Ormai devo fare le due gambe a miscela, passo in, alzo l'ossigeno, tanto 1,2 deve essere fino a che arrivo a 21 metri, dopo passo al Nato 6,50 e lo porto a 1,6 a 6 metri, gioco sui gas. Ho risposto? Altre domande? Ti do la parola. Bene. Chiaramente ringraziamo Pasquana ancora con un applauso, grazie. grazie. Applausi. Applausi. Grazie.